Cornetto crema e amarena e due ragostine, uno al pistacchio e uno con la panna. Non credo, mangerò tutto, ma... Era difficile resistere, c'era un sacco di roba, un sacco. Cornetto, tra l'altro, appena, appena, appena sfornato. Assaggiavo. Ehi, che bel rumorino. Mmm, non lo so. È stracolmo, raga. Stracolmo, è stracolmo. Mmm, benissimo. E' una marina vera. Non ho così abituato a mangiare i dolci di merda che avevo rimosso questo sapore. Mmm. Mamma mia. Buonissimo. Vedi. Forse un po' troppo dolce, ecco. Mmm. La prima pasticcera è la cosa più buona che abbiamo mai mengiato nella vita. Mmm. Forza puttana. Mmm. Questa volta il tornetto è pieno fino al giorno. C'è solo la punta. Quindi andate sempre i sabati o i domenica, allora. Sono più bravi. Mmm. Mamma mia. Non ci staranno mai queste. L'assaggio. La prossima volta prendo un bastoglietto con solo piccoline, cose piccoline. Ne sono centinaia. Nessun rimpianto, è troppo buono. Mmm. La mia parola scarpetta. Ma questo tagliamo a metà. Per dose di zuccheri, eh. Vediamo com'è sa crema al pistacchio. Voi non ci crederete mai. Ma questa cosa sta di pistacchio. Dieci. Mamma mia. Panna. Buona. Ma questa è buona ma non ce la faccio più. Hanno vinto loro. Ma dieci, raga. Tutto pulissimo. Non dovevo prendere questa roba. Mamma mia. Sono... Di giuro fino a stasera, ovviamente. No, mamma mia. Vabbè, dai. Guarda. Un decimino. Visto che morirò. Grazie a tutti.